si comincia ragazzi allora numero 9 del vicepresidente individuazione centri prescrittori medicinali per le partite croniche impegno di euro 4 euro e poi dalla 10 la 11 la 10 la 11 sono rilasso rilasso di accreditamento la 10 la 12 sono rilasso di una modifica di un accreditamento del vicepresidente del polo di abitativo ogni occhi invece l'altra della villa e la numero 11 ha raccettivito nell'accordo stato regioni sul documento che amazionale per le malattie rari accordo stato regioni sulla telepresidente numero 13 dell'assessore rossetti autorizzazione anticipazione di cassa 2015 del presidente concessione del patrocinio e l'uso del logo della regione per iniziative varie poi sempre del presidente progetto di bilancio dell'esercizio 2014 dell'agenzia regionale per il trasporto pubblico locale e sempre del presidente il progetto di bilancio e poi dell'assessore barba gallo progetto di massima potenziamento della rete di monitoraggio degli organismi regolamentati dei relativi accertamenti diagnostici quarta dualità impegno allora qua ci siamo poi alcune comunicazioni ancora un'altra non è riservata e poi l'assessore vesco approvazione schema di accordo di programma per l'acquisto di mezzi per il ptl su gomma tra regioni indurie fisse ire e le aziende di trasporto dovranno firmare il tar nel pomeriggio ma c'è stato un problema con la buona azienda ma solo di impedimenti lo pensiamo che abbiamo lunediale 11 quindi per favore infatti abbiamo rivisto i numeri gli importi del presidente richiesta del salone per alcune cerimonie allora cinto l'ottomaggio 22 maggio polizia di stato poi pellegrinaggio diocesano mondo del lavoro al santuello della guardia 31 maggio domenica 31 maggio a chiavari primo radunno inter regionale nord ovest e centro della società e poi un'altra cerimonia domenica 31 maggio a chiavari primo radunno inter regionale nord ovest e centro della società nazionale carabinieri a 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 Grazie a tutti.